Ciao a tutti, benvenuti in questo video in cui introduciamo la carta in casa. I componenti del gruppo sono Silvia Buttita, Chiara Lamestel, Giorgia Liotto, Emma Scaduto e Alessia Mineo. Gli occorrenti per fare questo progetto sono una polmice, un telaio, una bacinella, un fruttore, una brocca e infine un contenitore con componenti acqua e carta. Allora, la prima cosa è con la carta che abbiamo lasciato nell'acqua per una notte. Mentre diretti ho messo un trucco in cui è la brocca di plastica, che è la domanda. Dopo aver messo i pezzi di fogli con l'acqua dentro la brocca graduata, andiamo a mettere il contenuto dentro il frullatore. e allora chi partica io vederete al donato? Abbiamo spostato il nostro contenuto in un'altra bacinella e adesso con un misurino ciascuno di noi andrò a mettere il contenuto dentro il nostro tenorio. Abbiamo spostato il nostro tenorio. Come potete vedere sta bruciando l'acqua e potrà servire pure per fare altri contenuti. Ok, ora lo scuotiamo per far uscire l'accesso d'acqua. Adesso è arrivato il momento di tamponare. Comunque si deve fare molto delicatamente. Comunque si deve fare l'acqua. 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 Poi così per ogni punto, per ogni punto, per il foglio poi si lascerà ad asciugare, per una volta e ancora mi saranno spazzolati un pochino, guarda, non si deve fare troppo forte perché sennò il foglio tende, si spazzolato. Togliamo la cornice e ora ribaltiamo il composto nella pezza. Ultimo passaggio. Ora passiamo di nuovo nuovamente la pezza. E poi togliamo anche la cornice. E poi la dovremmo tenere ad asciugarsi per una notte. Non so, per una notte. Schiacciamo molto bene almeno il contenuto quando metti l'ideccia seriamente a togliere tutta, tutta l'acqua. Rimanente un po'. Allora, dopo aver tamponato, ora si deve lavare il telaio perché così il composto andrà nella pezza. E poi otterremo il nostro foglio dopo che si asciuga. Questa è la parte finale che deve andare troppo bene perché sennò abbiamo fallito. E' appunto, un pomeriggio perso a non fare niente, per non creare niente. Quindi speriamo che ci venga, incrociamo le dita. Incrociamo. Stai girando? Sì. Ok. Ora aspettiamo che... Scuole, scuole. Allora. Ora aspettiamo che il nostro composto si asciuga. Acchialerò adesso, l'ho fermito io. Sì, acchialerò, però è l'ambito. No. No, ma io non sono una pelle per il caldo. Io frullo. Io mi frullo. È certo che si gratta. Backstage. Bellissima. Quindi, non so se... Ma si deve mettere su questo o su questo? Eh, appunto. Vediamo. 3 quarti di acqua. 3 quarti di acqua. 3 quarti di acqua. 3 quarti di acqua. C'è scritto è graduato. Vedi se c'è l'unico. 3 quarti sarebbe questo. 3 quarti sarebbe questo. 3 quarti. No, la te, dai. Tu, stai. Sì. Sì. Ma mi fa male, starete? Guarda, mi metti lì. Sì. Grazie a tutti.